Ciao a tutti! Oggi prepareremo i carciofi prezzemolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono carciofi puliti e tagliati a spicchi e messi nell'acqua con il succo di limone. Olio, prezzemolo, aglio, acqua, vino bianco, dado vegetale e pepe nero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio ed azionare il bimbi per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Prelevare un cucchiaino di trito e metterlo da parte. Aggiungere l'olio e i carciofi. ed azionare il bimbi per 6 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il dado. il pepe, il vino bianco e l'acqua. E cuocere per 14 minuti 100 gradi anti-orario, velocità soft. I carciofi sono cotti, impiattiamoli e serviamoli con il trito di prezzemolo messo da parte. Carciofi prezzemolati Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.